Via, 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 via. La concessione del patrocinio è l'unico logo della regione di Gura e le iniziative varie. Numero 8 del vicepresidente, integrazione e modificazione della deliberazione del 1936 del 2009, legge 5 del 2009, attuazione al piccolo futuro, l'indicazione dei soggetti calderanno la vigilanza in materia di amianto e disciplina dell'attività di vigilanza. Numero 9 dell'assessore Garbangeri. Non c'è malapazione. Legge regionale 34 del 2000, articolo 6, partecipazione della regione di Gura e la funzione di Gura. Questo è il contributo annuale a Carlo Felice, che noi non siamo in grado di aumentare. Mi ha chiesto Paco, ho capito come è, Paco, gli farò almeno presto e questo lo aiuta dal punto di vista degli oneri finanziari. Noi siamo in tesoreria, quindi la cosa non ci cambia la vita, se ben capisco. E quindi, diciamo, procediamo. Dico la conferenza stampa anche se non c'è. Questa qui, da 10, la facciamo subito. Dove è andata Renata? Si è già persa. Anche la minera di vincere. Era un attimo perché la chiamiamo dalla centrale operativa. La centrale operativa. Sentiamo la 10, via. Poi, dell'assessore Lucinelli, parere regionale in conferenza di servizi, legge di 2007, apertura della nostra vice di vendita, società di Imara, SPA, comune di Camporosso. Si è il parere di conformità alla programmazione di questa richiesta di una grande superficie di 1420 metri a Monte Rosso, a Camporosso. Il numero 12 della società è coerente con il piano commerciale, eccetera, eccetera. Andiamo in conferenza di servizi a dire ok. Il numero 12 dell'assessore Paeta, ma è spoggiato un pochino cambiato, ragazzi, ragazzi più metà, indirizzi in ordine alla stipula di convenzione con la società infrastruttura e liburi SRL in house. Il numero 12 è mandato alla nostra centrale di sicurare l'accordo con le infrastrutture per il dragaggio e con la regolazione dell'assessore Rossetti depennata. Pratico Rossetti? E questo volevo chiederva anch'io, poi mi sono tanti anni. Comunque questa qui l'ha tolta. Sì, questa è repenata. La strada di ha delegato. La strada di ha delegato e la strada di ha levato le delive. La strada di ha tolto la strada di quelle delive. E poi ha tolto la strada. Perché strada, non la vuoi smontare. Andiamo avanti. Poi, le fuorisate. Assessore Rossetti e Assessore Briano. Lo lascio. Deliverazione numero 4 del 28 novembre 2013 del Consorzio di Bonifica e Dedicazione al Canale Lunese concernente il bilancio di esercizio 2012, determinazioni conseguenti. Poi, gli Assessori Vesco e Rossetti. Modifica alla deliberazione 1051 del 2013. Approvazione del programma sperimentale per la promozione dei tirocini, dei contratti di apprendistato. e assegnazione e somme non spese del programma ministeriale o alfa al work. Poi, passiamo un attimino la 10. Sì, ma dobbiamo inserire per uniformare la delibera della via al piano dei rifiuti e inserire delle motivazioni uguali in modo che così le due delive sono assolutamente congruenti. La prima dei rifiuti è quello assunto a fine anno, per capirci. Esatto. Se l'avete visti, no? L'abbiamo visto. L'abbiamo visto. Io ho inviato loro. Sì, sono le stesse cose che mi hai mandato. Va bene, lei, perfetto. Sì, sì. Le facciamo inserire nel testo della delibera. Oh, va. Che hai detto? Allora, dicono le pratiche. Abbiamo una sola comunicazione. Comunici. Allora, dell'assessore Rossetti, sempre sull'adesione alla sua terapia comune al passello. Via, via, via. Mi dia via a libera. Via libera. Allora, mi devo dire un po' di cose. Come ti ho già detto Michela, del 23-27 c'è la solita Lisa Dowskid. dal consiglio ci chiedono se va a casa sola e poi si scoliva da andare questo non si parte direttamente dal genere ma pare che Vesco sia interessato così? No, che lo viena contattato unanime, diciamo, un'assemblea unanimemente con me no, passa a parte tutto ma se c'è qualcun altro io ma guarda te lo dici a me l'abbia voluta fare perfetto Vesco allora abbiamo deciso che vada Vesco poi chissà, magari l'ultimo anno ci vado quando non c'è più niente a fare sono mai andato in vita lo fanno anche io una volta poi ci andiamo insieme dunque qui ci avete quel pacchetto di che ti ho perso l'altra volta mi pare di capire è da distribuire ah ecco volevo chiedere a lei eh questo rispetto come dire è vodevole ma c'è sui documenti mi sembra una cosa allora questi qui sarebbero i 40 più 12 più 7 più sms è così? dicevo dottoressa questi qui dottoressa o assessore sono i 40 più 12 più 7 più sms cioè a chi sono andati no? esatto adesso vi chiederemo di fare uno scorto con calma magari uno solo fa un po' a casa sua guardando i dati ma adesso come avevamo di fare uno scorto avanti in fine e sapendo i tipi di interventi che erano fatti finanziati sappiamo che sono percanti di finanziamento cioè se hanno preso i soldi o no i passaggi successivi sarebbero chi l'ha fatto quel lavoro lì e poi è stato pagato o no? e poi questo che deve aver fatto via via non solo per questo progetto di finanziamenti ma anche per tutti gli altri perché qui è una cosa più non vorrei essere più ma non lo avete diviso è un maloputo insieme no? poi andiamo alla scheda gialla c'è la regna di Ivan Medici allora come al solito partiamo dal basso noi oggi presentiamo una infrastruttura col comune di genero che la storia di Creva in un'aspirazione quindi non deve parlare l'era naturalmente è una cosa di cui si parlava il primo lotto è finito il secondo è cominciato finisce da due anni quindi è una di quelle opere che scavavano il nostro mandato ma comunque questo finisce 700 metri, due anni mi sono da anche tanti la seconda cosa riguarda Noli non c'è Berlangeri oggi ma comunque faremo parlare il sindaco di Noli perfetto che riguarda un'opera da un milione e mezzo che è il recupero del castello di Montorossino che finirà ad aprile quindi questo ormai è abbastanza il terzo foglio riguarda invece gli appuntamenti di gennaio che dovrebbero avere una versione definitiva ma non capisco avete capito che lo schema è sempre 10-10-10-10 così non c'è nessuna relazione con le mie passioni giovanili quindi mancherebbe domani lunedì dipartimento robotica Santa Corona quindi assessore vicepresidente dico l'interessato principale che viene chi vuole come sempre poi forte annunziata 20 miglia immagino che sia un po' Berlangeri un po' Lucineri no? Berlangeri come cultura Lucineri come farsi come farsi eh? come soldi poi Castelvittorio a Freschi diciamo cultura penso no? area ludico sportiva Robbia diciamo di Dora Manerossi di Lasali Podestà Genova Prà ancora Berlangeri Lucinelli cinema di Genova Prà e quindi anche Barbagallo non lo sapevo quindi ha che fare anche un'attività agricola non lo ho capito poi il cinema di Genova Prà è uno di tanti cinema fatta con le risorse diciamo europee quindi forse anche questo caso ripubblicheremo un ulteriore bando perché è rimasto ecco allora dillo a Alberto che ti chiamerà sì sì quei due che mi hai insegnato sull'altro giorno eh sì quello di Spezia l'hai già messo sì quando faremo il bando mettiamo il bando però in questo caso qui del cinema di Prà ho detto a Alberto Reis che fa le schede di riferimento di usarlo come un esempio di possiamo mettere un po' di numeri quanti finanziati poi dicendo che lo rifinanziamo perché poi non è che andremo inaugurare tutti poi 100 giorni che volete direi che sarà un po' l'ambardio potrebbe essere un po' anche rossi il congresso nazionale è un bando si stupisce per tutto fa anche la tua parte batterie e camogli mi pare che sono poi dei parchi no? ma a luna andiamo da? 28 si da là si c'è giorno di consiglio però magari partiamo un po' prima avvisiamo perché il 29 c'è era previsto il 30 ma il 30 c'è Piaggio a Roma e francamente ci vorrebbe il 29 c'è Simons quindi c'è un bello va bene e questo è diciamo adesso volevo cominciare a parlare di un attimo del discorso diciamo sito iniziativa eccetera adesso la la conferenza stampa si ce l'hanno si ma ci sono per tutte o no? eh? si ci sono per tutti? fai fatto allora facciamo prima magari altre altre cose poi arriviamo con il discorso dunque oggi affrontiamo la questione dell'ambito nell'ambito del lavoro che facciamo ogni settimana sull'ambito l'impresa importante Renzo si è una situazione in chiaro scuro nel senso che le notizie sono a parte sui giornali sono dell'avvio di questa procedura per ottenere il concordato in continuità adesso ci sono 120 giorni in tempo è stato nominato un commissario è stato nominato un advisor che deve fare un piano industriale legato al processo di rientro e sarà predisposto nel giro di 120 giorni dopodiché ci sarà l'assemblea dei creditori che dovranno accettare o meno sulla base di queste notizie io l'altra mattina insieme al sindaco di Chiavari abbiamo incontrato sia la proprietà che le organizzazioni sindacali dico che è una situazione in chiaro scuro perché c'è questa difficoltà di natura finanziaria rilevante pesante consistente determinata sicuramente dal fatto che c'è stata una riduzione pesante di fidi da parte del sistema bancario questo è quello che si rileva maggiormente dico in chiaro scuro perché mentre c'è questa situazione finanziaria è un'azienda che nonostante la crisi del settore automobilistico sapete che l'Ames fa sistemi elettronici per finestrini cristalli delle macchine mentre è in corso una crisi del sistema automobilistico oggi l'Ames ha tutto l'organico al lavoro rispetto al passato non è sottoposta a processi di cassa integrazione e in questo momento che permane difficile nel settore delle auto ha acquistato ha conquistato altre fette di mercato e quindi dal punto di vista dei mercati dal punto di vista produttivo è un'azienda che sta lavorando e sta lavorando sta lavorando bene quindi per questo c'è un chiaroscuro un'articoltà finanziaria e una situazione invece produttiva di mercato che sono che sono positive l'altra mattina abbiamo convenuto col sindaco di Chiavari voi sapete che lì è in corso tutto il processo per una trasformazione urbanistica delle aree di San Pier di Canne dove sono a Chiavari per il trasferimento della Lames a Cicagna il comune di Chiavere è stato sottoposto a un po' di pressioni che a fronte di queste situazioni qualche d'uno diceva blocchiamo tutto pare che l'altra mattina abbiamo convenuto con le Vaggi che non si blocca nulla si mandano avanti l'iter delle procedure di natura urbanistica e di natura progettuale perché resta sempre l'attualità e necessario il trasferimento di Lames la procedura per quanto riguarda la parte urbanistica la parte progettuale sta in questi termini che al momento la procedura urbanistica sul sito di Chiavari è ferma perché è in corso in regione se non ricordo male se dove è stata depositata i primi di dicembre la procedura di screening è qualche cosa da seguire con grandissima attenzione lì c'è anche l'ambiente la sta facendo l'ambiente quella parte lì da seguire con grande attenzione per la delicatezza della situazione aziendale della Lames per quanto riguarda Cicagna dove sapete che lì invece è stato avviato l'intervento di Filse Filse sta aspettando dovrebbe arrivare nei prossimi giorni degli ulteriori elementi progettuali da parte dei progettisti per poter presentarli al comune io direi che è un quadro complessivamente buono da seguire con grandissima attenzione perché la parte di natura finanziaria è un qualche cosa che non è sulla dei processi produttivi della capacità di rimanere in piedi dell'azienda mi si dice che l'avvio della procedura di concordato in continuità è stato accolto in maniera positiva dai clienti di Lames e pare che anche i principali fornitori che eventualmente si diranno qualche taglio nel quanto rispetta a seguito della procedura sembra che siano d'accordo e che quindi anche l'assemblea dei fornitori che si dovrà tenere quando il piano industriale è pronto non ci dovrebbero essere difficoltà per avere la maggioranza dei fornitori raggiungere la percentuale necessaria per l'approvazione del piano però è una situazione da monitorare costantemente siamo in rapporti con alcuni di Chiavari mi sembra che la Chiavari la stanno seguendo con grandissima attenzione sentiamo è nata è tommiologa non c'è Caccia come la vedo dal punto di vista vostro non so lo screening non lo sta andando tutto bene sì c'è la nuova e da voi atturbanistica procedimenti a piatti e pubblicazioni sui appassioni per adesso non lezionalità quindi non lezioni va bene insomma sono trasessorati che devono seguire questa pratica sono tutti no Renzo anche nella sua veste di responsabile diciamo del tuo spazio sì noi ci sono solo c'è la parte di screening adesso e poi ci sarà una parte ulteriore secondo me di Renzo a sede come industria poi naturalmente c'è anche Enrico poi ci teniamo informati come lavorano mi pare che per il momento si può affrontare tutti a lavorare perché lì poi abbiamo nel fasso un finanziamento per il binario come si chiama abbiamo un finanziamento per il comunale poi c'è Renato sia per la parte diciamo screening sia per la parte o binario e poi c'è c'è Cassino per la parte di San questo è una cosa che nonostante la situazione finanziaria dell'azienda per il momento c'è una possibilità di portare avanti poi volevo dirvi ancora che nelle opere diciamo che presentiamo con la scheda qui nel settimana a venerdì prossimo se non cambiamo in postazione al momento avrei motore Enrico e filiano quindi sono diciamo ambiente ambiente Torenco perché ci vogliono invitare a Torenco di solo perché sono sostanzialmente finiti quei lavori cominciati nel 2009 eccetera e filiano perché è finito un lavoro messo in sicurezza della Torence stesso adesso in realtà manca un mese un mese e mezzo la strada già è aperta si è pronti a normalità manca un mese un mese e mezzo diciamo alla fine lavori complementari ma insomma sostanze che li abbiamo finiti va bene è quella parte che attiene più l'agricolo che con l'abitato giusto perfetto poi socializziamo il fatto che abbiamo visto ieri con Renata e Gabrielli che oggi lui ha mandato il suo per vedere come siamo messi e che sulla base della razione che riceverà deciderà sull'accoglimento meno solo di emergenza in buon sostanza questa è diciamo che non è un sì ma non c'è neanche un no preventivo la risposta è lo stato di emergenza ci serve molto anche per gli interventi di natura anzi non è un sì ma non c'è neanche un no e quindi come dire stiamo a vedere diciamo la valle sopra oggi scommettiamo in stato di allerta stanno facendo vanno a vedere per ieri su perché Eliane ha spiegato che è una situazione di emergenza della valle prolungata nel tempo e poi andranno a santo uccidere a ricop perché poi con l'allerta così nelle zone di allerta 2 oggi non vanno ovviamente però l'operazione va bene se questa cosa venisse accolta ripeto sempre sappiamo solo che non viene sbiffata in partenza si applicerebbe una normativa nuova che nessuno ha ancora applicato saremo tra i primissimi che bisognava che studiaste anche voi diciamo perché c'è dentro anche l'aginamento sulle imprese forse anche sui privati io direi magari anche tu segretario metti un po' insieme un gruppo con attività produttive ambienza un po' tutti quelli bilancio fatevelo un po' perché lui ci ha detto che se per caso parte parte che è una normativa dobbiamo saperla per qualunque niente diciamo se per caso non si accolta dovremmo seguire procedure completamente nuove che finora non sono state ancora applicate poi qui rimane sempre fuori la questione agricola io non so più come dirlo però non c'è entra a fare a questo momento non c'è entra a fare spontaneo cioè noi non si è mai da trovare un meccanismo per dare una mano un meccanismo non c'è entra a fare c'è la psr una norma comunitaria ben precisa che si può solo operare attraverso le assicurazioni quindi proprio una norma un po' è converso però le aziende vengono aiutate abbattendo il prezzo della situazione va bene già che siamo qui perché la cosa di interesse generale ha chiesto anche a Gabriele notizie della Concordia c'è la conferma che si deciderà a marzo non si sa se sarà in Italia se sarà all'est se saremo noi se saranno altri porti si sa solo che la tempistica che sta avvicinando per un paio di mesi dopodiché Porto Autorità Marittima Operatore hanno chiesto a noi collaborazione per una serie di persone che hanno a che fare guarda a caso con l'ambiente i vergaggi e così via andiamo data e quindi diciamo noi stiamo facendo la nostra parte per carinare genero ad ospitare questa operazione qui poi diciamo che poi si vediamo insomma tanto per voglio aggiornarci un po' sulle vicende di ieri poi l'argomento invece che volevo sviluppare un attimo con voi oggi in l'ambito di quel lavoro appunto settimanale giornaliero adesso vogliamo un attimo le prime tracce riguarda le serie ed è tanto complicato quanto semplice nel senso che abbiamo detto che lì dopo dicevano ieri che vabbè come ci arriva anche Renzo ha aperto la mensa i parcheggi sembrano sufficienti e collegamenti con i bus sembrano diciamo per il momento sufficienti le infrastrutture sono in buona parte realizzate in parte sono in avanzata fase quando ce l'abbiamo le possiamo dare è in avanzata fase di realizzazione stanno a prendere le prime attività diciamo non industriali cioè la polesta il bar il tabacchio uno sportello bancario tipo banco ma che sono una filiale hanno fatto il contatto con l'esauro che però non è ancora entrato in una fase esecutiva dopo di che ora siamo chiaramente un biglio che riguarda le stazioni della città no voi sapete che ci eravate in età di tutti che noi nella riprogrammazione dei FAS che stiamo facendo abbiamo lasciato questa voce nella presunzione che la cosa possa andare avanti positivamente dopo di che vado a sé che se dovesse avere una strada diversa come dire ne prenderemo atto e faremo atto con quelle risorse adesso di questa cosa si stanno occupando sia Renzo che sia Renzo che che Pippo sapete che la cosa adesso è legata un parere che deve essere dato dall'autorità che deve sostanzialmente dire se si può proseguire se si può seguire la via della crisi di cosa futura o no certo domanda è stata fatta bastanti in avanti diciamo ma direi che siamo a questo punto adesso volevo farvi vedere il prossimo giorno dovrà incontrare potremmo mettere la prossima gente si vedete il prossimo si lasciare dire volentieri allora quindi venerdì prossimo e anche perché lì io l'incontro perché noi abbiamo un problema sai che abbiamo sottoscritto la giunta sai che abbiamo sottoscritto con la sport di programma abbiamo insegnato una quota consistente di risorse per progetti di ricerca progetti di ricerca che sono stati esaminati sono in fase di esame da parte del ministero ma c'è una serie di ritardi da parte del ministero che voglio discutere con Ericsson perché o abbiamo i tempi di spesa oppure saremmo costretti poi a queste risorse a diventare su altre cose va bene adesso dicevo dedicare ancora a questo che possa essere una giunta abbastanza breve oggi poi ci diamo di rifiuti ma magari Renata ci dice un po' cosa succedendo con la pioggia allora volevo starvi un attimo questo lavoro di comunicazione sul sito che la nostra intenzione vorremmo presentare la stampa al 31 seguiti un attimo tutti se ci riesce non ti porto vorremmo presentare la stampa al 31 insomma il tentativo è quello di sostanzialmente lasciare una traccia non con un grande saggio ma con tante pillole insomma il lavoro in particolare di ciò che sta avvenendo in questo anno più che non rendi conto dei 5 o dei 10 anni questo anno adesso noi imposteremo il lavoro in questo mese poi ti chiederemo di aggiornare proseguire vediamo un attimo le quattro cose che mettiamo sul sito diciamo le quattro cose che mettiamo sul sito vabbè una non è qui sono i twittini diciamo i miei con le ligure 14 che magari venerdì invece diamo anche quelli il twittino diciamo no 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 che sono cose un pochino più leggera no evidentemente anche per il tipo di dimensione diciamo per twitter credo che molti di ruolo stiano vedendo eccetera eccetera è il terzo anno che lo faccio e l'obiettivo non paro solo di opere pubbliche ma anche di imprese anche di eventi l'obiettivo però è dare un po' un segnale su tali google per due anni consecutivi siamo riusciti a parlare tutti i conveni anche con qualche delibera ad hoc negli ultimi giorni perché si potesse non lo lasciare nessuno accanto a questo poi prende corpo quell'elenco che si chiama 365 opere pubbliche per la Liguria che in cui affrontiamo un'opera al giorno adesso ripeto il gennaio dovrebbe essere un mese di allenamento per il problema bisogna entrare in regina con che logica diciamo penserei di costruire naturalmente condividendo con voi questo percorso anche sugli aggiornamenti altrimenti poi diventa impossibile allora uno vorrei mettere qui tutte le principali opere diciamo per dimensione per peso per importo diciamo che nel corso di quest'anno siano o finite finiscano o in corso in che proseguono comincino o che anche diciamo non cominciano ma c'è già come dire una decisione forte cioè tipicamente finanziamento parliamo di opere pubbliche parliamo di opere pubbliche che abbiano almeno una quota di finanziamento europeo nazionale e regionale invece quelle che i comuni si fanno per quanto loro evidentemente no tanto per fare un esempio aggiungo una cosa poi indipendentemente dalla dimensione penserei di mettere quelle che io voglio inaugurare sono quelle delle lenti di manare e poi di usare un po' di accorchezza nel comportamento 365 per inserire anche in questo caso almeno un intervento per combina ok allora chiederei a voi adesso di farvi un po' una vostra mappa diciamo delle principali cose che pensate di mettere e via via diciamo poi le tipicamente andrebbero inserite quando c'è un'occasione particolare se c'è poi certi giorni non c'è quindi metti la cosa che è in corso è chiaro che se un'occasione in corso in agro la metti se apre un cantiere lo metti cioè il giorno che apre il cantiere di pelli no claudio oppure quando presentiamo la scheda qua insomma vediamo un po' come fare infine 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 penso che bisogna dare molta evidenza alle questioni diciamo della difesa a suolo perché in questo momento è la cosa più seguito un attimo dal primo gennaio dal numero uno cioè dalla coda avete visto che abbiamo affrontato Romarzo per la nuova di Valazze Dall'Ascol con riprisse in FSBH che si inaugura il 10 di quale 9 10 su Treveri di cui oggi presentiamo punto la scheda la messa in sicurezza politica Stupani piazzetta del Rossello Soldano inaugurazione la rossa inaugurazione biblioteca universitaria colombia scuola Carinaldo scheda per esempio Salazano sopra luogo frane e mezzanine con Borzonasca intervento del libera nuovo pronto soccorso ospedale Borgh ora cosa chiederei a voi con calma oggi c'è no sì ma è stata stampata diciamo con la base di ciò che c'era stamattina presso cosa vi chiederei vi chiederei di dunque adesso queste robe sono già su giornale raggiunta giusto? giusto? ma da a fine mese vanno anche non page così? già ci sarà? ci sarà quindi diciamo che la prima febbraio c'è anche il bagno c'è anche il bagno esatto quello che chiederei a voi sostanzialmente è senza fretta nel senso che tanto si va avanti un po' giorno per giorno e di farvi un po' una riflessione sulle cose che incrociando poi tutte queste cose vostre perché insomma deve essere una scelta così di vedere un po' quello che è cosa importanti da mettere non solo per dimensione ma anche per peculiarità in qualche territorio ma oltre a questo di curare poi un po' personalmente gli aggiornamenti di queste cose qua no? perché la struttura che presenteremo il 31 è una struttura che prevede aggiornamenti no? e che prevede anche un po' il dibattito di dibattito regolato come si chiama no? di interlocuzione dei cittadini quindi non lo so numero uno diciamo quando finiranno i lavori in alto modo significativo definiranno i lavori e così via no? chiaro no? è un lavoro impegnativo ma alla fine rimarrà una massa di dati abbastanza abbastanza consistente poi in quel bagno lì ci sarà appunto il mio titino che apparirà e lo forse va a applicare e trova via via quei giorni precedenti e poi diciamo si troverà lì anche diciamo l'impresa di cui parliamo no? settimana questa settimana e quello che ho chiamato non so non mi ricordo il futuro della Ligure una cosa strategica su queste qua è chiaro che sull'impresa avranno particolari diciamo però poi magari sono di capire anche cose un po' diverse che ci vogliamo mettere insomma penso casinò a un certo punto una realtà con tanti dipendenti penso la compagnia unica diciamo a cambio di dipendenza poi è chiaro che anche qui ci sarà una parte oggettiva cioè tutti quelli che hanno più di 800 400 500 c'è un'altra per condividiamo vediamo Zampini e Sola e poi anche lì però ci possono essere come dire realtà particolari che però fanno una cosa significativa direi che qui è un po' conferenza anche qui poi bisogna tenere dietro con gli aggiornamenti perché questi siti qui se poi non sono aggiorni diciamo hanno un'immagine statica insomma che non lo dà l'ultimo è più complicato nel senso che adesso abbiamo messo banda larga TPL e oggi abbiamo messo le 0 ma le metteremo le 0 intanto per queste due per queste due diciamo Alberto che segue la giunta in streaming Alberto Lais prepara come ha fatto oggi anche nella giunta precedente una bozza con gli assessori più interessati no? poi se durante la giunta non emergono novità con la bozza che magari potremmo anche mandare a tutti gli assessori con le due bozze degli argomenti strategici e della l'impresa la potremmo mandare a tutti gli assessori poi se durante la giunta che lui ascolta se ci sono alcune novità ne tiene conto la intro la modifica e la pubblica se non ci sono novità quindi su questa seconda parte cioè quello futuro all'Iguria mancano molti assessori oggi mi pregherei di contattare gli assenti insegnatevegli un po' magari Lorena Portano Cascino su questa parte qui che voi capite che è quella più strategica bisognerebbe che ciascuno di voi immaginasse come il suo diciamo settore è presente faccio un esempio qui Claudio è chiaro che il singolo ospedale sarà nel 365 ma la politica perché l'inizio ospedaliera potrebbe essere un periodo strategico la politica per le case della salute potrebbe essere un periodo strategico e poi diciamo la dinamica dei conti della sanità sarà un periodo strategico insomma quindi magari scrivete un po' una lettera in questa sensazione dell'assessore di cominciare ad immaginare un po' perché è chiaro che poi la media è 4 più o meno 12 per 4 diciamo se fosse 13 per 4 sarebbe esattamente 4 se ci mette altri milioni 13 per 4 52 però poi ci sarà chi ne ha di più chi ne ha di meno per dimensioni caratteristiche adesso non so penso che un periodo strategico potrebbe essere la messa in sicurezza dei torrenti libri che poi compariranno nelle opere pubbliche laddove come dire c'è una singola opera che va sarebbe importante appunto che a questo punto cominciate a fare un po' di in modo che poi piano piano adesso per un po' si possa andare avanti di così poi che un po' naturalmente se poi la stampa capisce questa cosa qui penso che lo seguirà con una certa attenzione si fa un modo più moderno di fare una specie di più che dire di controllo di fotografia per il attraverso il futuro che non che non fare una grande documento in quattrocento pagine che poi difficilmente la gente legge anche se poi può fare un bilancio di mandato ma sarà una cosa più tecnica che non operativa bene abbiamo dei rifiuti se non volete se non volete vi dico soltanto un attimo il percorso così poi studiamo ho capito che oggi voglio discutere ma lo registro brevemente come sito che non c'è problema poi le cose più specifiche ho mandato il documento ah volevo dirvi una cosa chiedo scusa scusami ancora sulle cose diciamo più significative delle settimane precedenti volevo dare la novità che riguarda il tpl nel senso che in pere ci ha consegnato con il matino un'età di adesione poi io penso che sia il caso di fare il giornale da fabbac si ha detto no che questa è una fase appunto di costruzione si a questo punto è marcio osprezio che si apre un'interessante stagione noi raccoglieremo subito secondo me con un'iniziativa come chiamare i comuni che fanno parte della provincia per informarli per che è la no si questo voglio dire questi poveri comuni che fanno parte che non sanno niente di questa discussione quindi bisognerà anche dirgliela poi magari decideranno come ha detto la provincia proprio la safia poi lui cioè sappa ci ha comunicato stamattina ci ha comunicato stamattina che però lui ha un problema molto significativo sul transitorio perché che gli è scaduta al 31 la vecchia concessione e quindi lui ha dovuto fare questo bando per non essere riscontrabile e quindi il tema non è più se impera aderisce o non aderisce perché ha detto ma come si gestisce il periodo transitorio diciamo da oggi al giorno in cui parte la nuova diciamo servizio adesso si vede la corte dei conti adesso si andrà nel ministero però siamo in una fase di costruzione comune ancora diciamo banda larga io ho visto un po' gli uffici nostri saremmo rimasti d'accordo Renzo che noi prepariamo una lettera a tutti i comuni in cui diciamo noi esaminiamo in un arco di tempo che va da dal giorno alla firma il 28 febbraio ancora un po' di situazioni critiche che voi ci segnalate le situazioni critiche qui potrebbero avere tre tipologie una zona chiaramente non a fallimento di mercato in cui noi possiamo solo quasi interlocuiti con gestori con amor a suegio una è diciamo sono zone inserite in questo fantomatico programma di infantel per cui ti pregherai di attivare insieme adattasie l'un rapporto con infantel per capire se intervengono no se intervengono da soldano per esempio soldano e infantel solamente che lo faranno o lo faranno questi e poi non ci siamo detti che potremmo prendere in considerazione ancora una serie di limitati casi che ci venissero segnalati in cui come dire non c'è non c'è più fallimento di mercato perché magari ne fa tempo Roda come ha detto l'inizio oppure a caso che si va diffondendo un operatore piccolo c'è un operatore che se ne va quindi per questo si viveva tutto questa è quella che va a dire no e quindi se come dire è di nuovo fallimento di mercato nel senso che è stato un operatore o lo è diventata diciamo giuridicamente perché Roda ha rinunciato oppure ancora c'era scappata qualche partigione così via potremmo però entro il 28 febbraio raccogliere domande da soddisfare nei dieci mesi che rimangono tipicamente con una suppettiva penso che c'è ancora un margine giuridico di suppettiva l'altra cosa invece del programma free wifi andando avanti sull'Italia Cloud è però un aiuto particolare per il discorso ospedale nel senso che ci siamo detti con gli uffici nostri e con gli attensivi che bisogna vedere bene le zone in cui non può esserci per motivi di interferire laddove non può esserci invece proviamo a fare in modo che ci sia in particolare il problema è come schermare la parte quella vedi tu con il tuo tecnici una volta che lo fai è impedire che nel sale per l'andorio dove ci siano mangi in particolare si non si sia dove può provocare interferenza se ci sia invece per quanto è uguale imprese si abbiamo novità e piaggio novità rispetto alla settimana scorsa che siamo stati comunicati adesso la situazione è tesissima ma la dico di una parola il parco l'obiettivo nostro sia quello di tenere un nuovo ciclo di cassa 2 più 2 a condizioni possibili per le regole italiane e in modo tale che si possa avviare della nuova e discutere questa cosa per maggiore se possibile per la unità di questa direi che è la sostanza sono convocato anche il tavolo bombardietta il 23 è convocato anche il tavolo bombardietta il 23 e dunque i deliberi sono finiti giusto adesso passiamo al piano dei rifiuti non so se la situazione diciamo emergente tale per cui finiamo siamo un po' loro non so mi rendo pronto con una macchinata complicata oggi prima facciamo l'incontro per il parco una cosa importante non c'erano settimane poi vediamo se dicono che devono fare dall'alto dunque mi scrive l'assessore bilancio abbiamo visto la morte stamattina paghiamo oggi nel senso che si paventa l'imposizione oggi facciamo lo gestiamo va bene l'interruzione sulla lames mi diceva la minervini che la procedura di screening finisce il 30 di questo rapidi rapidi ditegli solo che ci dicano se preferiscono chiudere perché capisco avete alto voi se abbiamo la connessione di tranquillità affrontiamo la questione di giusto altrimenti chiudiamo e ci occupiamo dell'emergenza preferisci avere il tempo libero per occuparsi dell'emergenza oggi se fosse possibile magari più però se volete basta chiedersi mi interessa scegli tu dai una cosa breve riesco a riscarla che mi fa anche piacere allora il piano dei rifiuti il piano dei rifiuti ha iniziato il suo iter dopo l'approvazione del 27 che è un iter che tra l'altro ci aiuta comunque a parlare sia col territorio che anche tra di noi eventualmente per ulteriori aggiustamenti nel senso che viene pubblicato sul Burl il 18 mi sembra adesso non mi ricordo il 18-20 e da lì inizia un iter di 60 giorni di valutazione io ero un po' destinate a venire anche il giorno di voi è una ragione che pubblica le sue leggi i suoi regolamenti i provvedimenti e piani sul Burl mi aspettavo da un sacco di anni viene pubblicato appunto sul collettino e poi inizia un percorso di 60 giorni di valutazione ambientale strategica questo serve anche ai colleghi per dire insomma ai territori che possono guardarselo perché è pubblicato sul nostro sito e che tutti hanno la possibilità di mandare osservazioni e considerazioni queste osservazioni e considerazioni verranno analizzate dagli uffici viste anche dalla giunta perché poi la giunta accetterà o respingerà motivando alcune considerazioni e porterà in approvazione il piano che andrà poi all'analisi del Consiglio e immaginavo che questo piano potrebbe essere approvato entro fine luglio il piano è stato già presentato e in parte discusso con i principali portatori di interesse quindi con i sindacati l'ANCE e le province e le associazioni ambientaliste inoltre è stato presentato anche alla maggioranza che visto anche l'ITER mi sembra più soddisfatta della presentazione e ha visto anche nell'ITER la possibilità di avere anche uno spazio ancora di discussione anche perché poi comunque sarà il consiglio a vederlo definitivamente il piano dei rifiuti una cosa importante va in parallelo avrà dei tempi più lunghi ma in qualche modo aiuta la discussione anche sulla legge della governance quella che riguarda in particolare i rifiuti e l'acqua perché in qualche modo fa capire di che cosa in qualche modo chi governerà la parte rifiuti e acqua si dovrà occupare e quindi mi sembra che anche su questo i consiglieri che stanno discutendo la legge su rifiuti erano per questo molto soddisfatti il piano prevede anche il piano delle bonifiche perché se ne è parlato poco io quello di farei una presentazione poi magari a parte perché è un tema che è legato da un punto di vista giuridico ma poi è anche un po' diverso quindi se non mi dispiace mi so farmi un'altra volta il piano il piano dei rifiuti si basa intanto l'ho detto anche pubblicamente ce lo siamo praticamente fatti in casa ci ha aiutato un po' per quanto riguarda i dati il consorzio TICAS che ha delle competenze anche universitari su questo però l'abbiamo fatto praticamente a costo zero che sono adattati importanti l'hanno realizzato gli uffici si basa sull'analisi dei dati della situazione esistente e si pone tutta una serie di obiettivi dico sempre a tutti che in realtà noi non partiamo da uno stato avanzatissimo della gestione dei rifiuti nella nostra regione sia per quanto riguarda la raccolta differenziata che la presenza di impianti a parte lo scherzino dove ci sono comunque già degli impianti sul resto della regione ci si basa probabilmente sulle discariche però è anche vero che questo partire un po' più indietro può darci la possibilità di costruire un piano più innovativo rispetto magari ad altre regioni che sono già ingessate in impianti previsti i principi fondamentali sono prevenzione quindi riduzione della produzione di rifiuti preparazione per il riutilizzo riciclo recupero infatti negli impianti abbiamo scritto tanto raccolta differenziata quanto riciclo reale del materiale che viene raccolto recupero di materia di energia e smaltimento inoltre il piano prevede il superamento delle discariche e quindi il loro utilizzo è soltanto diciamo al minimo indispensabile nella situazione transitoria che comunque ci sarà e poi nella situazione finale la regia come sapete quindi cosa succede che si alza la porta ridifferenziata esatto allora l'idea è questa che oggi noi dico solo le criticità da cui partiamo grazie Gabriele allora noi abbiamo oggi le 5 criticità sono elevata produzione pro capita determinata anche da flussi turistici alta frammentazione fra modelli gestionali decisi a livello di singolo comune che è una cosa da superare sia col piano che con la legge della governance percentuali di livello medio della raccolta differenziata come sono scusami non devo capire una cosa sul punto ma cosa vuol dire vuol dire che noi carichiamo anche il rifiuto prodotto e leggerlo un po' elevata produzione pro capita rispetto magari ad altre regioni monoturistiche determinata anche dai flussi turistici no non ha mica senso questa cosa è tanto di scusare sì cioè non siamo noi sì però le norme su cui si devono calcolare le medie dividono qualcosa di abitanti però scusate noi abbiamo bisogno di capire se i liguri producono troppi rifiuti o no un po' di più sì la frase così non voglio niente per capirci perché ci dovete dare un dato perché se ne produciamo di più pro capita per i liguri perché abbiamo rispetto alla popolazione tanti turisti tra le altre regioni non è un problema di capire abitudine non so vi spiegate vi spiegate quindi bisognerebbe fare uno sforzo per capire nei mesi meno turistici nei mesi meno turistici se siamo se siamo come dire eh neanche nei mesi morti e tra l'altro abbiamo la provincia che produce perfetto è la risposta che volevo bisogna lavorare anche sui comportamenti dipenso solo dai turisti non è colpa nostra però dobbiamo considerare che questo dato è anche caricato dalla presenza qui ok poi secondo punto secondo punto è alta frammentazione tra modelli gestionali decisi a livello di singolo comune che impedisce impianti ma anche livelli di raccolta differenziata più alta perché se non si fanno segnali questo si supera con la norma sulla governance il piano dei rifiuti ma anche le unioni su cui sta lavorando l'Ella e tutto il discorso del fare in modo che i comuni si aggrino poi percentuali di livello medio della raccolta differenziata cioè la raccolta differenziata è bassa a causa della scarsa diffusione di modelli di raccolta domiciliare porta a porta o di pressività quindi da cambiare il sistema di raccolta perché laddove è stato cambiato è quello che ha fatto fare il salto ai comuni dove è stato cambiato prossimità spinto o soprattutto porta a porta è partita sì sì ma anche a Genova nei quartieri dove diciamo nei municipi dove si facette la sperimentazione elevati costi gestionali anche a causa della dispersione dell'assenza di economia di scala e poi affidamento quasi esclusivo a impianti di discarica cosa che ho già detto prima cioè di fatto un po' il fatto che se ci sia fidale di discarica che hanno anche un costo di smaltimento più basso non fa fare il salto di qualità sul pezzo prima per la raccolta differenziale poi bisogna tenere conto anche di un'altra cosa che però le norme vanno comunque verso il superamento delle discariche perché le norme dicono che in discarica non si può più portare il rifiuto che contiene ancora una percentuale di umido elevata quindi comunque con la raccolta differenziata stava tolta e nello stesso tempo non si potrà mettere in discarica neanche un rifiuto con potere calorifico superiore alla sinistra quanto? quanto? 13.000 Kilo Joule e quindi di fatto non la puoi neofoturizzare per il residuo secco che poi rimane a valle di trattamento questa è la fotografia no? questa è la fotografia sul piano dirà che invece bisogna fare questo esatto allora intanto riduzione dei rifiuti individuiamo tutta una serie di azioni che non avranno un'incidenza ma comunque sia culturalmente che simbolicamente possono avere culturalmente a noi poi raccolta differenziata la raccolta differenziata viene spinta al 65% ora su questo vorrei essere chiara perché anche con Anci abbiamo cercato di trovare un accordo e di aiutare anche i comuni in questo è abbastanza difficile immaginare che questo 65% lo raggiungiamo in un anno sappiamo anche che cosa è successo diciamo rispetto al fatto che i comuni non l'hanno raggiunta la forte dei punti eccetera allora noi con Anci abbiamo immaginato due step che sono il raggiungimento del 2016 del 50% che comunque significa che molti comuni più piccoli di quelli diciamo principali supereranno notevolmente il 65% le grandi città ci metteranno un po' di più e quindi nel piano il valore atteso al 65% è dato al 2020 tutto in linea con le normative europee perché il fatto che il 65% dovessi essere aggiunto l'anno scorso era una scelta dell'Italia non della normativa europea quindi tutto questo è in linea con le normative europee quindi aumento della raccolta differenziata che il piano cerca anche di legare e qui poi mi piacerebbe una volta fare una riunione di correnza eccetera al fatto che in regione Liguria si possa creare anche una filiera del materiale raccolta e del riciclo quindi da un lato la carta un po' lo ha già però per esempio la carta al vetro per le sue tradizioni mentre carta un pochino ma non tanto la plastica praticamente va tutta fuori Liguria e l'umido bisogna fare gli impianti di compostaggio potrebbe essere sicuramente legato anche al fatto che questo può creare un po' di lavoro ce lo dice anche il Conai e quindi immaginare che Liguria possa nascere anche in qualche impresa che ricicla i materiali dalla raccolta differenziata noi avremo la plastica carta che vanno alle loro filiere poi abbiamo l'umido che invece necessita di impianti quindi il piano punta sulla realizzazione degli impianti e divide i comuni in due fasce questo è un tema interessante questa cartina è in bianco e bianco comunque si capisce che ci sono comuni che producono molti rifiuti perché hanno una grande popolazione magari anche un territorio meno vasto e comuni che ne producono soprattutto quelli dell'introterra fondamentalmente si immagina quindi l'incidenza del turismo è alta e comunque noi immaginiamo che è molto difficile dire penso a Santo Stefano Daveto che avrà più facilità fare anche la raccolta dell'umido alcuni se la utilizzano anche negli orti nei giardini nei giardini che fa prendi l'umido che devi stoccarlo lasciarlo lì poi puzza eccetera e lo porti all'impianto giù a in effetti delle gulbe che non lo so dove si farà però diciamo nel tigulio a Genova è più facile dire ti fai una compostiera tipo quella che abbiamo visto a Seborga quelle compostiere piccole ho visto una Montoggio ah non c'è come a Seborga vabbè a Montoggio si è Montoggio già un po' più grande potrebbe essere anche intercomunale comunque io ho visto quella di Montoggio a Seborga hanno una compostiera gestita dal comune per i cittadini di Seborga e diciamo che il comune è l'umido invece per gli altri comuni che però sono quelli che producono realmente i rifiuti della Liguria in quantità si possono immaginare almeno un impianto per provincia di compostaggio noi ti avremo bisogno di un po' di aiuto da parte di poi ne parleremo oggi perché questi impianti producono anche energia a biogas quindi possono essere collegati al piano energetico almeno uno per provincia e con la possibilità di farne due su Savona nel senso uno a area di Tonegno di Levante e due nella provincia di Genoa uno su Tigulio ma non è detto questo qui poi sarà deciso dalla governance che si considera con l'alte l'inforo poi a questo punto si riduce talmente tanto la parte secca che rimane a disposizione che rimane dopo tutti questi trattamenti che non ha anche da un punto di vista economico c'è OI che è un disastro c'è OI di Badalucco che lì è un disastro i danni sono grossi poi ha sentito anche Timia abbiamo mandato anche i volontari ho dato una foto del suo olivetto ma che roba sta dicendo le piante quindi residuo secco che rimane può essere ulteriormente trattato compattato solti ancora degli scarti recuperabili che ci possono essere e si può praticamente lavorare producendo quello che si chiama CSS che non muove in questo mondo ideale diciamo in cui c'hai tutta la differenziata fatta bene l'umido eccetera la percentuale che rimane diciamo ma chiama rifiuto secco come l'hai chiamata CSS quello trattato cosa rimane 35 sarebbe 35 poi ci puoi togliere ancora un po' i materiali più o meno il 35 perché ci puoi togliere ancora un po' di parti ferrose però poi ci mandi ancora qualche scarto che deriva dalla raccolta differenziata che non è perfetta e quindi alla fine è quella percentuale ci toglie ancora un po' di umido che ci fa il fos che è la cosa dal 25 al 30 allora CSS raffinato alla fine è 101 a fronte 101.732 tonnellate anno a fronte di un RSU prodotto di 880.696 poco più del 10% più aperta ce n'è un altro CSS che deriva dal sottovaglio che è 30 quindi 150.000 circa tonnellate anno a fronte di 800 di 880.000 perché materiali di regla dove sono? anche questo no perché sono inerte sono in poche sono in poche cioè nel piano deve essere hanno degli inerti dentro i solidi urbani perché la gente poi dita via anche materiali inerte quindi questo qui viene poi separato poi anche l'umido adesso qui non sono entrata con un'area specifica però c'è quello della raccolta differenziata di buona qualità che va a fare un vero compost poi c'è quello che invece deriva dal fatto che tu pulisci ulteriormente l'infiuto rimasto quello è di cattiva qualità si produce il cosiddetto fosso che serve anche per le discariche le cave insomma per fare ripristini ambientali le zone da recuperare quindi alla fine praticamente il nostro ciclo si concluderebbe con impianti di livello regionale che producono questo CSS che viene poi considerato prodotto e quindi non è più il piano si dice quanti se ne fanno al massimo due rispetto a quanti si impianti CSS 1 2 1 è da riconvertire quello che tecnologica si migliorare leggermente la tecnologia e forse anche magari vedere in un'ottica più il piano cosa dice 1 2 2 1 su special perché da loro hanno già il CDR quindi diventerà CSS quindi si implementa la qualità diciamo per i voletti di colori chiaramente modifettato il CDR è uguale tecnologicamente e la differenza che il CDR si fatica a piazzarlo scusate il linguaggio CSS invece si sa come piazzarlo così o no? questo è però diciamo della piazzabilità dove il CSS perché se no non facciamo una discussione è tutto da vedere il tema è sto qua perché se noi abbiamo una o due impianti di CSS quello che fa questo impianto è piazzabile oggi ho imparato un nuovo diciamo aggettivo abbiamo risolto il problema no? giusto? sì in origine anche per il CDR era stato così no? c'erano cimentifici poi ci sono tutte le divizie tutti i guai che sappiamo e questo ha condizionato molto il fatto che tant'è che tutti gli accordi per la realizzazione di questi impianti erano nati con diciamo anche collegati no? dei modi per smaltirli e poi sono tutti in qualche modo entratati tant'è che a questo punto sono le società a dover pagare per portare il CDR il CSS ad oggi come dire forse presume che però non è una cosa certa ecco non è una cosa certa questo è da dire che la CDR non solo ma è introdotta lucidamente di un'attività che ha delinquere all'emissione di un'attività quindi più accessibile che anche per la testa di un'attività però c'è la tua crisi di un'attività ma voglio dire che comunque poi in questi temi stiamo parlando di cose teoriche e ovviamente non sarebbero non sarebbe giusto però questi sono ragionamenti che si possono collegare a grandi centrali allora sì che lì hai uno sbonco verosimile diciamo se invece gli impianti sono piccoli e privati diventano molto complicati cioè non è affatto assodato diciamo che miglioriamo il prodotto che mettiamo su piazza però può essere anche le informazioni che ho io magari impianti esistenti nelle altre regioni perché adesso il ministero sta facendo uno studio in cui come c'è che sono sottodimensionati cioè erano sovradimensionati rispetto a quello che adesso con la moneta della raccolta differenziata ci va a finire possono entrare anche nel circuito di impianti già esistenti in altre regioni il ministero sta facendo una però non abbiamo ancora vista comunque non ciò che questo lavoro va bene ci sono interventi vediamo secondo me un passo in avanti il tema della regionalizzazione degli impianti l'idea di ragionare complessivamente su questa quantità delle pubbliche che ci stanno poi naturalmente il sistema è collegato all'evoluzione gestionale dei nostri soggetti perché poi non è che noi regionalizzando gli impianti abbiamo risolto il problema dobbiamo anche regionalizzare la nostra gestione però è un passo in avanti quello che è un po' diciamo da verificare è il tema della centralità del ruolo di Scarpino che è una base di quello che si legge in questi giorni e io non ne so nulla dal punto di vista diciamo né ambientale né dei rilievi che sono stati fatti però è chiaro che questo è un piano che parte dall'esistenza di una cosa di una cosa discussa sulla Stato quindi bisognerebbe capire che cosa sta accadendo lì se davvero il nostro futuro è sicuro nell'ambito di questo principale tema che comunque e che se ne dica è al centro del nostro piano il nostro piano sostanzialmente è raccolta differenziata produzione di questo nuovo materiale e poi presenza di scariche come siamo d'accordissimo sul fatto che si faccia ma questo è un ragionamento che possiamo sostenere solo nell'ambito della possibilità di prendere quelle questioni organiche rimane a centralità di scartire io non so se vuole che si legge perché questo credo che sarà un po' di un'idea no? va bene io volevo dire alcune cose conclusive di questo dibattito ci sono altre poi con il Dario Morato di lavorare c'è un'idea Claudio che credo che anche lui debba occuparsi di scartire è evidente che ci possono essere competenze incrociate a Palazzo insomma allora anche se non siamo in tanti ma ci sono tutti i maggiori interessati perché insomma direi che sono un ambiente bella per la parte anche di rapporti con i comuni e Claudio appunto per la parte riguarda la sanità e direi anche Renzo perché poi ci sono realtà positive significative insomma che manca il lavoro adesso vediamo se riusciamo a spiegare bene sui tipi di agio secondo me stiamo facendo cose su passi avanti noi vogliamo usare questo ultimo anno per disciplinare bene la materia dei servizi pubblici locali che ha una componente diciamo trasporto una componente a cico e a una componente di tutti sono queste direte grosse noi diamo a in questo lavoro che stiamo facendo la regione come sempre ha un compito di legislazione nel caso del trasporto abbiamo questo compito mentre nel caso l'acqua dei rifiuti siamo in tine di pianificazione il piano dei rifiuti è un esempio chiaro ma non ha due compiti di gestione e poi di assetto azionario non tocca a noi discutere queste questioni qui poi è evidente che la legislazione può anche favorire dei processi diciamo dal punto di vista nel caso del trasporto nel senso che è possibile che a questa gara partecipi noati che domani possono anche diventare più aggregati però diciamo non non abbiamo questo compito qui ora noi abbiamo in questi diversi campi in realtà differenti insomma la nostra regione che declinano Levante o la ponenta Levante allora nell'imperiese noi abbiamo forse il massimo di criticità nel senso che non è stata definita vera la questione come via gestore unico e così via no quindi siamo messi male per esempio su questa questione di depurazione perché poi dando gli soldi non sono come spendere poi siamo messi male come come rifiuti perché hanno affrontato con le norme di tali non solo il tema di scariche ma persino il tema di scariche pubbliche no sono andati avanti fino a poco tempo fa o forse addirittura fino ad oggi con le scariche che non solo come dire vanno superate come forma di smaltimento ma anche come forma di gestione nel senso che sono tutte pubbliche le private le proprietà su cui si parla non solo le aziende le aree e poi anche incrociando questa cosa con la provincia d'Imperia che abbiamo visto c'è criticità per diciamo l'azienda del trasporto pubblico sia per l'aspetto diciamo di sesto la provincia che chiaramente non aiuta sia per diciamo il fatto che è scaduta la concessione RT e quindi come dire non sa neanche come far passare l'anno per arrivare al gestore diciamo che vince la garcia da qui la cosa che dicevo prima che si avvia un percorso fatto di gruppi misti che vengono si presenti Savona come come rifiuti come acque anch'essa è messa molto male l'ultima novità che mi diceva il sindaco di 19 ma noi avevamo previsto che Piaggio ci arracciasse il 19 adesso vi segnalo che bisogna affrontare questa criticità diciamo dei reflui di Piaggio bisognerà in qualche modo risolvere ma poi anche lì diciamo c'è questo benedetto gestore diciamo Atron non c'è insomma quindi sui rifiuti con le acque lì sono messe male sui rifiuti non c'è nessun impianto finale diciamo però c'è un centro di proprietà pubblica anche di città privata cosa che la legge consente di grosso poi ci sono altri minori anzi possono solo minori che è quello di Boscaccio mentre diciamo sul TPL mi sembra che sia forse l'azienda in questo momento meno problematica in realtà dico bene? Sì Salto Genova Spezia come messa dunque all'azienda di trasporto pubblico meno problematica in questo momento insieme a Salona sulle acque forse è la provincia messa meglio nel senso che il depuratore di Levanto è Martinsa non si fa ancora si fa un piccolo intervento adesso a Corniglia mi pare che sia forse quella messa meglio sui rifiuti diciamo attenzione perché ha un'azienda che era messa male ma che anche come dire il concorso nostro come abbiamo fatto anche per l'artificio di genere e di fatto anche sull'MT seppure con la volontà dell'acquisto dei medi che poi stendiamo a tutti che sta facendo passi notevoli nel campo di risanamento e che è anche l'unica che ha un impianto che modificandolo ti arriva al CSS cioè lì c'hai il massimo di precisità dal punto di vista diciamo aziendale che poi non fa solo i rifiuti con l'azienda però anche come dire in questo momento l'unica potenzialità forte è il campo impiantistico se si riuscirà a modificare quell'impianto per fare il CSS si riuscirà a piazzare il CSS poi diciamo la decisione su Mangina naturalmente porta a consapevole esigenza di capire come si apponta diciamo il tema di scarica però lì hai come dire problemi e potenzialità nel senso che si riuscirà l'impianto che nel caso che andassimo a uno o due diciamo massimo due è chiaro che c'è già e quindi per un po' di tempo forse sarà un'unica soluzione regionale in attesa che se ne faccia all'eventuale seconda allora qui ci sono dinamiche più complesse che riguardano le imprese che tu non vuoi affrontare nel senso che pure lì riguardano le imprese nel senso che è chiaro il nostro compito qual è poi sulla base di questa nostra pianificazione in materia di TPR di acqua e di rifiuti gli interessi che può suscitare questa nostra pianificazione in un sistema di imprese che operano in diversi campi è una cosa che riguarda quelle imprese tuttavia fare delle cose che suscitano interesse nel mondo imperditoriale mi sembrerebbe una cosa positiva se diventa contendibile qualche asset diciamo della nostra regione messo bene o messo male ho messo prima male poi così così in funzione di scelta di un generale di politica industriale nel lato di merito di questa nostra minuzione poi chi vuol capire capisce un caso specifico della situazione in Cusina tra l'altro nobile perché l'azienda ha fatto prima la scelta di definire quello che era in capo ai comuni e quello che sarebbe rimasto nel corso i comuni hanno deciso il debito che si sarebbero assunti come responsabilità e l'azienda ha deciso sulla base dei vari servizi interrogava di fare operazioni di dismissione delle società due sono già andate in porto nel senso che Centro Gas Energia e Accantenti hanno già avuto il loro percorso e ci sono già i privati che acquisteranno parte di questa società rimane il tema dell'ambiente e questo che deve essere chiedito cioè ACAM l'ha deciso di fare quest'operazione mette le sue azioni sul mercato e ci sarà qualcuno che eventualmente prende questo punto con che tipo di procedura abbastanza pubblica pubblica gara pubblicissima quindi il tema diciamo di ACAM diciamo che è non risolto perché chiaramente devono essere completate queste operazioni ma dal punto di vista dell'infestazione è già ambientissimo non c'è quella criticità più facile diciamo che è un po' meno critica mi pare che sia abbastanza chiaro poi si arriva su Genova citerei un po' per chiudere quest'anno come dire nel sistema stradale dunque Genova come messa distingue molto Genova da città dal resto del mondo nel senso nella polizia nel senso che a Genova città il lavoro sulle depurazioni è stato un lavoro molto intenso ecco un'operazione colmigliana che abbiamo condiviso praticamente si arriva alla situazione che direi ottimale sinceramente no? il che è abbastanza buffo perché nella parte di città meno balneabile nella parte di provincia meno balneabile turistica anche se poi Genova ha anche una parte balneabile però per la vocazione di Genova principale non è vivere del turismo e comunque noi sono balneare non c'è nessun turista che viene dall'estero per fare i bagni in corso d'Italia siamo messi bene in una parte invece diciamo delle due riviere male anche se il depuratore di Arenzano che sarà oggetto di una comunicazione in queste pagine diciamo nel corso fino a settimana di Levanto traguardo un obiettivo importante su Vesima su Colvoletto su Alessano due anni che è già adesso invece diciamo siamo molto indietro nel Tiguglio che è paradossale ma è così Santa Margherita finito ecco ben avviato Rappallo ancora diciamo in affanno poi anche senza comune e ipotesi definita per quanto riguarda l'altro pezzo di Tiguglio cioè quello di Sesti davanti la lavagna forse anche di Chiaro lì siamo piuttosto indietro anche se avendo il gestore unico diciamo abbiamo meno strumento orarizzativo cioè fare poi correttare questo è l'acqua sul TPL anche per dimensioni mi sembra la realtà diciamo più complicata anche per dimensioni nel senso che ATP sapete che ha preso un filo e ALT a due fini insomma anche ALT cioè vivere ALT perché Genova ha ancora una potenzialità diciamo di risorse da mettere cioè il comune lì tra mutui contributo annuale e contributo straordinario arriva a 65 milioni di euro cioè una cosa altissima veramente altissima insomma mi pare che sia il più interessato no ad andare avanti rapidamente tant'è che Doria forse anche non ha risposto non ho fatto un tempo a credere che avevano già risposto dopo di che c'è la questione dei rifiuti seguitemi ancora 20 secondi la questione dei rifiuti in Genova la possiamo considerare a seconda dei punti di vista quella messa meglio quella messa peggio non so se mi spiego penso di sì quella messa meglio perché un posto ti mette lì c'è gli altri forse per sempre insomma però siccome tutta la filosofia dei rifiuti non va ancora direzione e la dimensione del conferimento è 600.000 più diciamo molti comuni che conferiscono non avendo affrontato mai non avendo mai chiuso la protezione di impianto finale e spesso l'ha affrontato magari con un errore ma l'ha affrontato il tentativo che ha fatto era l'impianto finale non è riuscito appunto a piazzare e lì si è escluso prima si è appuntato ma sull'inceneritore come si chiama termo-rovalizzatore che poi si è escluso poi sul gasificatore che poi si è escluso ora noi andiamo dietro a queste impostazioni con questo piano in ragione come dire all'aumento dei differenziati e anche della disponibilità degli impianti finali a colonna a Liguria però questo come dire tuttavia diciamo questo come dire non fa venire nemmeno una esigenza una bonifica complessiva di quella discarica che per un po' è stata una magari una roba d'ora come vuoi dire nel senso che ha dato molto reddito all'agenzia e che però adesso mostra la criticità di un trattamento diciamo quarantennale più diciamo 45 anni quasi 46 e quindi questo qui diventerà anche una polemica politica ma il giro visto che è già intervenuto diciamo uno dei temi in più comunque ci vuole o fare un accordo con qualcuno o fare il tuo impianti la differenziata qui poi anche per il posto basso quindi la stazione è questa qua ecco io pregherei voi di seguire questa cosa con grande attenzione ripeto Claudio Renata eccetera però questo tentativo di regionalizzare la materia diciamo ha un grande interesse da parte del capoluogo nel campo del TPL è poco interessato effettivamente nel campo dell'acidico e dell'acqua però che sia come dire che Dio che prenda nel campo dei rifiuti è una cosa che bisogna vedere insomma non so se mi spiegate no? sembra di essere mi spiegate perché è veramente molto complessa la situazione ecco va bene allora direi che diamo a Renata il tempo di preparare un po' le cose da via un'e mezza dal punto di vista situazione no? perché è bene tra i libri non solo con le cose di ieri di Gabriele ma anche con quelli di oggi sì volevo solo aggiungere ma è ovvio che ovviamente Renzo dovremmo con la graduazione che tu deciderai vedere almeno le quattro grandi aziende film meccanica o l'ex film meccanica diciamo nel senso di energia che ormai di fatto l'ex film meccanica 4 milioni come si chiama SDS che potrebbe anche essere tra un po' ex film meccanica Selex S che invece sicuramente è una film meccanica è un po' il cento è più piccolo ma insomma queste quattro bisogna mettere diciamo dentro un mese o due possiamo chiudere si è scongiurata mi pare in queste ore si sta scongiurando il rischio della cassa integrazione a Grego Power sì i problemi sembrano risolti hanno fatto in tempi rapidissimi questo nuovo deposito per questa nuova tipologia di olio combustibile per la fase di accensione credo che sia in corso